eccoci via il querciolo dai ho trovato tre belli neri aerei ursiani guardate è uno lì ai piedi vediamo come sono gli iscriviti questi sono belli duri, sai? tutti i fratelli dai questi hanno un po' amigliato perché dove non è? ma è il fratello, il fratello maggiore vai a dopo è un po' amico